È abbastanza prevedibile che la fuga arrivasse all'arrivo e penso che noi abbiamo corso molto bene riuscendo a piazzare Bauke nella fuga e difendendo la maglia con Guampe però oggi non è stata facile perché parte il primo caldo quindi un po' tappa dura poi i metri di dislivello e i ritmi perché abbiamo fatto le prime due ore praticamente a tutta e poi diciamo una tappa molto tirata quindi tappa vera Tu come stai? Come sono le sensazioni? Ma io arrivo da un periodo un po' difficile quindi sapevo che mi mancava un po' di ritmo e che la prima settimana era la settimana da passare oggi era la settima quindi dai sta andando bene E mancano due giorni al block house? Beh mancano due giorni al block house e la fatica si fa sentire però la condizione cresce quindi ci proviamo E c'è tutto l'Abruzzo che ti aspetta? Soprattutto i tuoi tifosi? Sicuramente poi quest'anno speriamo di... abbiamo una grande chance di arrivarci con la maglia rosa quindi sarà ancora più bello